Buonasera, buonasera da Onda DG in apertura subito la politica. Il consigliere comunale candidato Fabio Pingue è pronto a prendere le distanze dal sindaco Anamaria Casini o quasi. La dichiarazione shock arriva nella trasmissione elettorale. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Con lo scenario che si è presentato in seno alle diverse forze politiche della maggioranza, in questo momento forse sono verso un punto di distanza di non ritorno da questa amministrazione. La dichiarazione shock arriva dal capogruppo di Avanti Sulmona, Fabio Pingue, candidato a Consiglio regionale con la lista più Abruzzo. A margine della trasmissione elettorale, il consigliere comunale ha stigmatizzato le voci che circolano nelle piazze e nei quartieri della città. C'è chi lo vede già come primo sostenitore del sindaco Anamaria Casini, qualora il risultato delle urne non sarà a favore del suo progetto politico. Ma il diretto interessato non ci sta. Prima prende le distanze dall'amministrazione Casini, poi da un colpo al cerchio e uno alla botte. Finora abbiamo tenuto scisse completamente le questioni amministrative regionali, ha esordito Pingue. Però è evidente che con lo scenario che si è presentato in seno alle diverse forze politiche della maggioranza, forse sono verso un punto di non ritorno. E fin qui la dichiarazione lascia aperti pochi dubbi. Sembra quasi un arrivederci annunciato. Ma Pingue subiro dopo chiarisce e argomenta. Qui non si gioca il mio successo o il mio insuccesso personale, ma si gioca una partita di rappresentanza territoriale. E quindi qualora dovessi avere il risultato che avrò, è chiaro che non è vero quello che qualcuno sicuramente dice in giro. E che tu, poc'anzi, hai ricordato che io diventerò il primo sostenitore dell'Aggiunta Casini. Assolutamente questo mi sento di escluderlo perché non c'è un tornaconto personale in questa candidatura, ma come sempre un progetto politico che mi ha visto costruire insieme a un fronte ampio e coeso questa candidatura e che dall'11 febbraio in poi continuerà a lavorare. Resta difficile tradurre il pensiero di Pingue, anche se, alla luce dell'ultima uscita pubblica, la presa di distanza non sarebbe poi così lontana. Qualora Pingue decida di abbandonare la maggioranza, il quadro politico si complicherebbe non poco per il sindaco Anna Maria Casini. Anche se in politica tutto può succedere. Chissà, ad esempio, se l'Alleanza per Sulmona sarà disposta a staccare la spina all'amministrazione comunale, dopo aver atteso in vano l'uscita di scena dei ribelli della maggioranza. Un tiro e molla che è andato avanti da agosto scorso, da quando il sindaco ha prima rassegnato e poi ritirato le dimissioni. Per qualcuno il treno è già passato, anche se, stando alla celebre canzone, in politica come nella vita. E ora le regionali, le elezioni del 10 febbraio, chiusura col botto proprio su Onda TV. Il 7 febbraio il dibattito con i quattro candidati. Presidente. Il momento decisivo prima del voto, gli ultimi appelli per convincere gli elettori, l'ultimo atto di una campagna elettorale è tutt'altro che tranquilla. L'emittente televisiva Onda TV chiama raccolte quattro candidati che il prossimo 10 febbraio si contenderanno allo strano più alto della regione Abruzzo. Nel penultimo giorno utile della campagna elettorale, prima del silenzio che apre le porte al voto, la nostra testata ha deciso di non venire meno ai suoi doveri di informazione. Abbiamo ragione di credere che, nonostante la potenza dei social nell'era digitalizzata, la TV conservi ancora un posto privilegiato nel sistema di informazione perché può arrivare dappertutto, dritta nel cuore, nelle case degli elettori e telespettatori. Vogliamo quindi contribuire, come facciamo da più di 30 anni, ad arricchire il dibattito elettorale in una fase delicatissima. L'appuntamento è per il prossimo 7 febbraio alle ore 15.30. La trasmissione con i quattro candidati, a cui abbiamo esteso l'invito, sarà trasmessa in diretta sul canale 18 del Digitale Terrestre, ma anche sulla nostra pagina Facebook, per dar modo anche agli abruzzesi sparsi nel mondo di rimanere aggiornati. In serata sarà prevista una replica. La trasmissione seguirà il format, le norme che disciplinano i dibatti elettorali in TV, perché è un'informazione seria, credibile, corretta e anche e soprattutto quella che segue le regole. Vogliamo quindi chiudere in bellezza una tornata elettorale che ha visto protagonista in campo nazionale la nostra testata con quel non di troppo di Berlusconi e con le nostre interviste riprese dai DG nazionali. E ora i dubbi sul reddito di cittadinanza. I Cinque Stelle di Sulmona aprono alla gente con un incontro pubblico. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Chiarire tutti i dubbi sul reddito di cittadinanza e filo conduttore dell'iniziativa organizzata alla Meetup Amici di Beppe Grillo Sulmona in programma per sabato prossimo le 17 nella sala conferenze della comunità montana Peligna. A illustrare il funzionamento, i meccanismi, soprattutto gli obiettivi di quella che viene considerata da pentastellati una vittoria del popolo, ci saranno addirittura quattro senatori. La padrona di casa, Gabriella Di Girolamo, Mauro Coltorti, Agostino Santillo, Sabrina, Riccardi. Quella però che viene definita la rivoluzione economica rischia di trasformarsi in una forma di assistenzialismo. Una provocazione che Onda DG lanciò qualche settimana fa al vicepremier Luigi Di Maio in occasione della sua visita a Sulmona. Io vi spiego una cosa molto semplice in cui credo. Poi qualcuno può non essere d'accordo con me. Circa 200.000 cittadini abruzzesi saranno coinvolti nel programma del reddito di cittadinanza, anche di più. Ora vedremo le stime regione per regione, in base alle richieste che arriveranno. Queste persone avranno una card per spendere i soldi per beni di prima necessità. Se non li spendono, i soldi si riducono man mano e quindi non potranno avere tutti i soldi a cui hanno diritto. Che cosa significa? Che nel giro di pochi mesi, le prime centinaia di milioni di euro che saranno stanziati finiranno nell'economia di questo territorio, negli esercizi commerciali, nei negozi, nei supermercati, finiranno nei negozi degli artigiani, finiranno nelle attività che sono in difficoltà. Ora, perché l'economia ha rallentato in questi mesi? Perché in questi anni ci siamo basati solo sulle esportazioni. La domanda interna non c'era. Quello che noi facciamo, mandando in pensione con Quotacento, dando il reddito di cittadinanza e rimpiazzando i posti di lavoro di Quotacento con tanti giovani disoccupati che diventano occupati, facciamo una cosa molto semplice. Iniettiamo miliardi di euro nell'economia dei territori e creiamo nuovi posti di lavoro. Io ci credo. Hai dubbi sul funzionamento del reddito di cittadinanza? e la domanda dei pentastellati sulmonesi. Puoi lasciare le tue domande anche in anonimato nella cassetta delle lettere presso il nostro infopoint di Sulmona in via Delino 5 scrivendo alla mail meetup.sulmona.gmail.com oppure direttamente sabato alle 17 intervenendo all'incontro con i nostri senatori. Intanto tre associazioni sono state escluse dal patto per le donne siglato nei giorni scorsi con i candidati alla carica di presidente della regione Abruzzo commonta la polemica in Valle Peligna al nostro servizio. Una gaffa istituzionale poiché in virtù del ruolo che ricopre dal 2013 è sacrosanto dovere di conoscere e interpellare con tutte le sue naturali evoluzioni il tessuto regionale per intero però perché l'Abruzzo non si identifica con Pescara. Tre associazioni di cui due Peligne passano all'attacco all'indomani della stesura del patto per le donne non hanno digerito il fatto di essere state escluse proprio loro che si occupano a 360 gradi dell'universo femminile Gemma Andreini presidente della commissione regionale per le varie opportunità ha dimenticato di invitare l'associazione ISA di Pescara che opera a sostegno delle donne colpite e la tumore a seno ormai da più di cinque anni facendosi promotrice tutti i giorni di progetti ogni volta diversi e stimolanti che fa riferimento al professor Cianchetti. Gemma Andreini ha dimenticato di invitare il comitato spontaneo donne di Raiano operante nel settore sin dal 2010 e che ha allergito quasi 100.000 euro a favore della senologia dell'Aquila il dottor Bafile Gemma Andreini ha dimenticato di invitare noi l'associazione Pink Pratola di giovane costituzione sì ma con tante realizzazioni all'attivo prima fra tutte la cura quinquennale di tamoxifene a favore di ben 88 donne venezuelane scrivono le tre associazioni che avrebbero chiesto di annullare le liste di attesa in favore delle donne bisognose di una prima visita di abbassare l'età minima prevista per lo screening visto il numero sempre più alto di case di tumore al seno in donne gravissime e di verbalizzare il tutto al fine di giungere a una sottoscrizione degli accordi più seri e più programmatica lo faremo comunque attraverso il lavoro di squadra che da sempre ci contraddistingue e non dimenticando mai di sostenere le esigenze di una parte dell'Abruzzo purtroppo troppo spesso dimenticato avvertono anche da lei e dalla sua commissione per le varie opportunità il colmo dei colmi e ora torniamo a Sumona per parlare della scalinata della Rotonda di San Francesco un pezzo di storia sì ma che si sta sgretolando vediamo un altro pezzo di storia sta andando in frantumi è il caso della scalinata della Rotonda di San Francesco che si sta man mano sgretolando vuoi perché col passare del tempo necessita di una manutenzione più incisiva vuoi perché le condizioni atmosferiche fanno la loro parte ma recitare un loro di primo piano è sempre l'inciviltà alcune pietre infatti sono state staccate e sparse lungo la storica scalinata a segnalare il caso agli uffici comunali di Palazzo San Francesco sono stati alcuni passanti che armati di smartphone hanno immortalato il degrado la segnalazione sarà presa in carico dal vice sindaco assessore comunale lavori pubblici Nicola Angelucci i resti dell'area presbiterale della chiesa di San Francesco della Scarpa sopravvissuti a sisma d'inizio settecento definiscono lo spazio realizzato nel corso del diciannovesimo secolo di quella che oggi è conosciuta come Rotonda ovvero un cortile a pianta ellittica su cui affacciano piccoli ambienti utilizzati nel passato come botteghe vi si accede attraverso l'antico portale laterale della chiesa più imponente rispetto a quello della facciata poiché collocato sull'asse viario principale preceduto da un'alta scalinata e caratterizzato da una profonda e ambia strombatura e da capitelli finemente lavorati nelle riseghe si alternano sei colonnine lisce cinque pilastrini per parte che poggiano sul robusto zoccolo e si sviluppano oltre ai capitelli in undici archi a tutto sesto progressivamente decrescenti verso la lunetta quest'ultima affrescata nei primi del cinquecento inquadra una madonna col bambino tra San Francesco e la Maddalena la monumentale opera lapidea fu realizzata dai maestri e tagliapietre lombardi che erano presenti a Sulmona e avevano una loro cappella nella chiesa sulle pareti interne delle strutture absidali sono appena leggibili tracce del ciclo di affreschi dedicati al santo titolare della chiesa dipinti nel quattrocento da Andrea De Litio il barbacane di fianco al portale fu costruito secondo la tradizione dopo il terremoto nel 1456 per rinforzare questo corpo di fabbrica gravemente danneggiato e rivestito in pietra da taglio disposta in conci regolari nella parte superiore è posta una statuetta di San Francesco mentre sulla sommità sono alloggiate tre campane a sinistra dello sperone sono ancora visibili i resti delle absidi poligonali e una delle monofore che illuminavano il presbiterio oggi la rotonda viene utilizzata per l'allestimento di mostre e eventi culturali cittadini ma merita sicuramente più attenzione da parte di tutti risparmio da 810.000 euro a Sumona scatta la riqualificazione del sistema di illuminazione anche fuori le mura del centro storico al via la riqualificazione energetica del sistema di illuminazione anche fuori dalle antiche mura sono cominciate in questi giorni le campionature in alcune zone della città all'area del monumento ai caduti via Bavaggio Magni XXIII e zona Villa Porta Napoli al fine di provare nuovi impianti di illuminazione dove il posizionamento completo lungo tutto l'asse di corso video si tratta di lavori per il potenziamento del sistema di illuminazione secondo la convenzione che il comune ha stipulato lo scorso ottobre con durata di 9 anni per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per un importo pari a circa 4.700.000 euro per il vice sindaco e assessore comunale ai lavori pubblici Nicola Angelucci si tratta di un importante progetto che consentirà non solo il miglioramento della gestione del sistema di illuminazione ma il risparmio di circa 150.000 euro per la gara triennale della manutenzione 120.000 euro per la gestione della bollettazione complessivamente i cittadini risparmieranno 810.000 euro la settimana prossima verrà presentato in giunta il progetto definitivo che prevede la modernamento dell'intera rete repubblica illuminazione circa 5.000 punti luce con nuovi proiettori a led in sostituzione di quelli al sodio per un importo di oltre 2 milioni di euro Angelucci è convinto che si sta rendendo più efficiente e un servizio per la cittadinanza consentendo di ridurre l'impatto ambientale attraverso la nuova tecnologia risparmiando costi di consumo soprattutto illuminando sul mona per renderla ancora più bella al calar del sole una buona notizia per il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise nel 2018 sono stati censiti 11 cuccioli di orso marsicano Barbara delle Molche sono almeno 4 le femmine di orso marsicano che si sono riprodotte quest'anno nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e 11 cuccioli contati in totale questo è il risultato del monitoraggio intensivo svolto dal personale del parco che a partire da aprile ha lavorato con diverse tecniche in collaborazione con altre istituzioni e volontari per acquisire informazioni importanti sulla produttività della popolazione di orso bruno marsicano il risultato è molto positivo in virtù del fatto che questo è il terzo anno consecutivo che si osservano da 10 a 12 nuovi nati della popolazione da oltre un decennio il parco porta avanti questa attività secondo uno specifico protocollo messo a punto dall'Università di Roma il monitoraggio viene attuato combinando sessioni di osservazioni in simultanea e mirate alle quali si aggiungono riservazioni casuali che vengono verificati e i dati raccolti attraverso l'uso di fototrappole in 41 occasioni sono state osservate femmine con cuccioli attraverso l'uso di specifici criteri spazio-temporali per eliminare i doppi conteggi ed è stato possibile distinguere quattro unità familiari distribuite in tutta l'area del parco e ora la sanità con i fondi per l'assistenza dei disabili a rischio la regione Abruzzo snobba i comuni ancora una volta vediamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio a distanza di mesi ancora oggi registriamo un assordante silenzio che costituisce mortificazione non certamente per chi scrive ma per le tante famiglie che non hanno certezze su futuro delle prestazioni a fronte delle sempre più ampie e delicate esigenze il comune di Pratola Peligna torna a bomba sul tema della disabilità a fronte dei possibili tagli che potrebbero inficiare sull'erogazione dei servizi e sull'assistenza con una nota firmata da sindaco Antonella Di Nino e dall'assessore comunale e le politiche sociali Marianna Palombizio è arrivato l'ennesimo sollecito alla regione Abruzzo ancora nessuna risposta alla missiva inoltrà dall'agosto dello scorso anno dei 17 comuni dell'ambito Peligno su iniziativa del comune di Pratola sei mesi della richiesta all'intervento siamo ancora in attesa della risposta dell'assessorato regionale e le politiche sociali sottolineano Antonella Di Nino e Marianna Palombizio e sull'assistenza non è ammissibile questo ritardo i comuni non riescono più a fare fronte con i propri bilanci e le famiglie non possono essere abbandonate proprio ieri sindaco e assessore hanno incontrato in comune un gruppo di famiglie ma la regione non sembra abbattere alcun colpo ora il punto nascita di Sulmona 72 ore dopo la visita della Meloni arriva un'altra Giorgia in reparto il mese di gennaio si chiude con 15 parti sentiamo tutto nel nostro servizio arriva la piccola Giorgia di Cintio 72 ore dopo la visita della Meloni la Giorgia nazionale leader di Fratelli d'Italia che non è discorso ha incontrato il personale del punto nascita dell'ospedale di Sulmona nulla di organizzato ma la coincidenza non è passata inosservata pesa 3 chili esatti ed è nata alle 14 di oggi 31 gennaio 2019 il primo mese dell'anno per il reparto di ostetrice ginecologia del nosocomio dell'annunziata si chiude con un consuntivo di 15 parti la media è di un parto in due giorni e in campagna elettorale si sa che si riaccendono sempre riflettori su un presidio a tutelare la politica finora ha sempre fatto un tiro e molla lasciando sia aperto il punto nascita ma senza assumere una decisione definitiva quella che cercano anche e soprattutto le partorienti e notizia proprio di qualche giorno fa che il ministro della salute Giulia Grillo per il tramite della senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo è intenzionata a rivedere l'accordo stato-regioni entro marzo 2019 una strada che potrebbe riaprire la partita senza più proroghe affanni il punto nascita proprio perché inserito in un'area disagiata va tutelato al di là dei numeri il reparto ha chiuso il 2018 con 235 parti qualche nascita in meno rispetto al 2017 quando erano 259 ma con una serie di iniziative in più dalla musicoterapia alle mostre che mantengono il reparto in fermento e in piena attività e di questo c'è bisogno e ora torniamo alla battaglia di Simone in questo caso alla buona sanità la famiglia dona una targa al reparto di rianimazione sentiamo tutto nel nostro servizio è morto all'età di 22 anni dopo aver combattuto contro il mare del secolo ma la famiglia di Simone Lotito il tecnico della fotografia nei service che illuminava gli eventi della città ha omaggiato con una targa al reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Sulmona diretto dal primario Vincenzo Pace un gesto che fa balzare agli nori della cronaca la buona sanità e il rovescio della medaglia di un sistema che molto spesso non riesce a stare a passo con le esigenze degli utenti tanto dentro l'ospedale quanto sul territorio ma per il caso di specie non è stato così la famiglia Lotito ha apprezzato l'umanità con la quale il personale del reparto ha adottato Simone come se fosse un figlio da qui la targa che starà consegnata al primario fresco di nomina la mano stretta fino all'ultimo respiro l'amore con il quale vi siete presi cura del nostro Simone ci accompagneranno sempre ha scritto la famiglia Lotito sulla targa un grazie da profondo del cuore al dottor Vincenzo Pace a tutto il reparto ma i familiari estendono il ringraziamento anche agli amici di Simone che sono ormai entrati a far parte della grande famiglia il giovane Sulmonese era tecnico della fotografia non c'era un evento una manifestazione che non lo vedevano schierato in prima linea è diventato il figlio il fratello l'amico di tutti per una pratola cardioprotetta via ai corsi per usare il defibrillatore per una pratola cardioprotetta l'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Croce Verde di Pratola Soccorso il gruppo comunale volontario di protezione civile promuove alcune iniziative finalizzate a far conoscere il corretto utilizzo dei defibrillatori e a formare un numero adeguato di persone per eventuali interventi di primo soccorso le iniziative sono strettamente legate alla recente installazione in via Vittorio Veneto del defibrillatore semi-automatico nello specifico l'associazione Croce Verde di Pratola Soccorso terrà due corsi di preparazione al corso di formazione BLSD ciascuno aperto a numero massimo di 15 persone nei giorni 11 e 15 febbraio dalle ore 21 alle 22 nella propria sede le domande dovranno pervenire al comune di Pratola Peligna entro e non oltre 5 febbraio 2019 compilate sull'apposito modulo scaricabile sul sito online del comune per le forze di polizia le istituzioni le associazioni interessate la segnalazione dovrà essere inviata dal comandante dirigente presidente responsabile indicando i partecipanti in ordine di priorità questi corsi sono molto importanti ha sottolineato il vice sindaco Nunzio Tarantelli perché defibrillatore è uno strumento fondamentale in caso di arresto cardiaco associato alle manovre di rianimazione cardiopolmonare ringrazio gli uffici delle politiche sociali per il supporto fornito nell'organizzazione di queste iniziative e ora cambiamo argomento per parlare del biglietto da visire a degli istituti tecnici in questo caso dell'ITI di Pratola-Pelinia cresce il bacino d'utenza facciamo il punto nel nostro servizio da Scanno fino a Piano d'Orta passando per la valle Peligna cresce il bacino d'utenza degli indirizzi di studio che fanno capo all'istituto tecnico-industriale di Pratola-Pelinia a fare il punto questa mattina è stato Stefano Dimascio docente referente dell'orientamento dell'ITI di Pratola istituto che rientra nel polo scientifico-tecnologico Enrico Fermi la mission è quella di preparare ragazzi svegli svegli quindi che siano capaci di inserirsi sia nel mondo del lavoro già a 19 anni tieni presente che noi collaboriamo con tutte le aziende del territorio e i nostri ragazzi trovano lavoro in tempi ultra rapidi che diciamo da aziende del nord praticamente ma non solo l'altra nostra mission è quella di preparare ragazzi membri di cittadinanza attiva che si possano inserire tranquillamente anche negli studi universitari hanno lasciato questi cinque anni all'ITIS un giudizio e una valutazione complessiva come pochi sanno questa è una scuola piena di vita con professori e alunni che hanno tantissima voglia di fare quindi a me personalmente hanno trasmesso proprio questa caratteristica questa voglia di fare di migliorare di appunto fare appunto tantissimi progetti collaborare in tanti in tanti aspetti della scuola ma anche della vita nostra quindi consiglio questa scuola anche dal punto di vista umanistico cioè oltre comunque a che può dare dal punto di vista istitutivo tecnico bene questo percorso formativo cinque anni quanto secondo te adesso è spendibile per entrare subito nel mondo del lavoro o per iniziare una carriera universitaria in questi cinque anni ci preparano da ogni punto di vista in quanto noi usciti dal quinto possiamo intraprendere due percorsi differenti o proseguire con gli studi quindi andare all'università e quindi laureati si prenderanno una laurea ma da un altro punto di vista c'è anche la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro e quindi di potersi specializzare in quello che è il proprio settore un consuntivo insomma che premia lo sforzo di studenti e alunni e conferma come gli istituti tecnici restano un valido biglietto da visita per l'ingresso del mondo del lavoro e per la carriera universitaria i coniugi di Santa Croce tornano dal Colorado College sono loro gli ambasciatori della cucina italiana nel mondo Gaetano Trigiglio nel servizio la chiara fama come imprenditori alberghieri e soprattutto ristoratori dei coniugi Santa Croce è giunta persino negli Stati Uniti l'università del Colorado College cita in Colorado Springs con circa 2000 studenti ha offerto un mini corso a 30 studenti insegnanti naturalmente i due famosi chef di Sulmona Domenico Santa Croce e Antonella di Cristoforo ogni mattina per tre ore gli studenti hanno tenuto lezioni teoriche sulla cucina italiana in particolare quella abruzzese successivamente i giovani hanno anche tenuto lezioni pratiche con la preparazione dei cibi si è parlato anche della cucina mediterranea e dei suoi vantaggi per la salute il corso è stato ideato dal professor Salvino Bizzarro cattedratico del Colorado College un corso di cucina ha durato più o meno una quindicina di giorni e siamo stati accolti bene e abbiamo riscosso tanto successo e soprattutto i ragazzi erano molto interessati alla nostra cucina la cucina italiana e in particolar modo la cucina abruzzese erano ragazzi naturalmente maggiorenni quindi erano consapevoli di quello che volevano imparare e avevano tanta voglia di imparare la nostra cucina di apprendere la nostra particolarità dei nostri cibi e quindi erano molto interessati la mattina venivano un quarto d'ora prima le lezioni si presentavano in anticipo e andavano via anche dopo che avevamo finito la lezione perché ci chiedevano sempre delle spiegazioni erano molto interessati e curiosi siamo rimasti veramente soddisfatti e stupiti dall'accogliente che abbiamo avuto e soprattutto l'endusiasmo che c'è stato di questi ragazzi che a fine corso hanno fatto il loro esame per vedere che cosa loro hanno appreso durante il corso e l'hanno messo in pratica quindi a gruppi di tre persone e hanno realizzato un piatto che veramente ci ha stupiti ci ha stupiti tutti perché hanno fatto un piatto forse a volte pure superiore a quelle che può realizzare uno chef italiano voi avete fatto promozione anche per l'intero territorio della Valle Beligna certamente noi questo questo l'abbiamo fatto tutta a nostre spese abbiamo promosso i nostri alberghi certamente ma il ritorno c'è per tutti i territori per Sulmona e per la Valle Beligna perché noi abbiamo abbattuto molto con la presentazione del territorio e dei prodotti tipici che noi abbiamo e delle bellezze naturali anche quindi questi giovani verranno qui a Sulmone già a luglio verranno i primi quattro ragazzi che verranno a fare uno stage qua da noi successivamente si sta organizzando dei gruppi che verranno qua sempre nel nostro territorio per il prossimo futuro dalle polemiche si passa alla festa otto portalettere brindano alla pensione sentiamo nel nostro servizio il vento sulla mele sul mio corpo indiano della polemica della polemica hanno festeggiato hanno festeggiato la pensione alla presenza del direttore dell'ufficio postale di Sulmonacentro Sandro Sant'Angelo del già direttore del centro primario distribuzione Alessandro Sabatini e di altri impiegati dell'azienda per tutti è arrivato il tempo dell'addio ma anche della nostalgia perché il portalettere è quello che conosce la vita dei quartieri delle singole comunità incontra le persone e assicura un servizio di fondamentale importanza diciamo che Poste Italiane è diventata la seconda casa per voi tutti quelli la seconda famiglia assolutamente sì dai primi anni 80 fino a dicembre 2018 sono passati tantissimi anni ben 36 insieme alle poste interamente stasera c'è un insieme di emozione ma di felicità perché finalmente siamo arrivati anche noi a quella agoniata pensione certo un ufficio più leggero perché ha perso le colonne portanti diciamo grazie grazie Andrea perché otto persone in un ufficio insieme è una perdita notevole perché a volte si festeggiano uno o due persone adesso ne siamo otto insieme però diciamo abbiamo tutti quanti maturato i nostri 39-40 anni e insieme ai direttori del passato stiamo festeggiando tutti quanti insieme grazie grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.